Shiva Yoga Temple presenta Yoga Educational, 180 secondi per cambiare la tua giornata. La visione di uno yoga sostenibile, attraverso la voce dei maestri e insegnanti più autorevoli sui punti più importanti del nostro vivere. Yoga, salute, amore, un'esigenza che ci spinge a ricercare qualcosa partendo da noi stessi, dalla nostra casa e dai nostri rapporti con gli altri. Marina Citterio, giornalista e responsabile del progetto Yoga Educational, intervista Sri Pranidhana, maestro atipico, non convenzionale e libero da ogni ideologia religiosa. Perché non riusciamo a essere realmente felici? Io credo che fondamentalmente l'uomo non riesce a esserlo perché guarda sempre altrove. Stiamo sempre alla ricerca di qualcosa di cui non sappiamo neanche esattamente di quale natura sia. Quindi semplicemente credo che anche nella mia esperienza personale c'è sempre stato molto i tentativi per affinare un po' quello che è poi la direzione di ognuno di noi. Certamente lo yoga può aiutare molti, molte persone come è sempre stato e come ha aiutato me a trovare più che altro una direzione interiore e una comprensione più allargata, se vogliamo, di quello che ci circonda, delle relazioni, dei rapporti e delle nostre attività. L'importante, ho visto, è non credere eccessivamente al proprio stato d'animo che è troppo mutevole e momentaneo. Ho imparato che quando c'è un momento di tristezza lo vivo pienamente e aspetto che scorra. Non cerco neanche di cambiarlo, lo vivo pienamente e aspetto che scorra. Così vivo anche pienamente ogni momento felice o piacevole. L'importante è riuscire a fluire. La parola d'ordine io direi che è riuscire a fluire, non attaccarsi a troppe cose, soprattutto a troppi legami, anche se dipendiamo molto da questi, però bisogna cercare proprio di prendere più che altro un forte legame con se stessi, credere più in se stessi, sorridere di più a se stessi e spesso riuscire anche a sdrammatizzare su quello che ci accade come individui. Hai ascoltato Yoga Educational? 180 secondi per cambiare la tua giornata. Se vuoi ricevere sul tuo smartphone o Android le pillole di Yoga Educational, scrivi a shivayogatemplepress.com